Quinta giornata di campionato, nuova tornata per il torneo di Serie D. Le formazioni siciliane scese in campo di domenica non si sono risparmiate. Derby, sorprese e ovviamente goal, quelli che la redazione di Unica Sport vi propone nella sua goal collection della massima serie direttantistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.